Buongiorno a tutti, io sono Lodovito Dincao e questa è la Masterclass di Power BI. Allora, siamo giunti al capitolo 5 e andremo a trattare praticamente lo strumento dei dataflow. Andremo a vedere che cos'è questo oggetto e come può tornarci utile all'interno della creazione dei nostri modelli e dei nostri report. È uno strumento che possiamo creare praticamente da Power BI Service. Lo vedremo nella prossima lezione come si crea un dataflow. Adesso capiamo proprio lo scenario e il comportamento di questo oggetto. In modo da comprendere proprio a cosa può esserci utile. Allora, ho preparato questo file qua che praticamente riepiloga alcuni scenari. Allora, questo che vediamo qua all'inizio è uno scenario standard. Quindi noi abbiamo la nostra Power BI Desktop. Con la Power BI Desktop ci connettiamo a dei file che sono ad esempio in SharePoint e sono ad esempio in SQL Server. Poi questi dati li importiamo con Power Query all'interno del nostro set di dati e creiamo poi un modello, quindi creiamo un dataset. Da questo modello di tabelle andiamo poi a creare il report. E quando abbiamo creato il report carichiamo tutto questo flusso all'interno della Power BI Service e quando noi andiamo a vedere come funziona il diagramma di aggiornamento di questo report, noi abbiamo questa parte qua che mi riepiloga da dove sto prendendo le limitazioni, che finiscono dentro a questo dataset che quindi quando andrò ad aggiornarlo, ok, recupererà le informazioni da le mie fondi esterne, e poi il report leggerà direttamente dal dataset. Questo è lo scenario standard. Quindi gli utenti dove si collegano con Power BI Desktop per creare questo dataset, si collegano direttamente al SQL Server oppure a SharePoint oppure ad altre alimentazioni. Adesso vediamo lo scenario 2. Introduciamo il dataflow e capiamo anche le differenze di scenario, appunto di comportamento. Questo è con il dataflow in mezzo. Praticamente se lo vedete io qui ho sempre SharePoint, ho SQL Server, qui ho il dataflow e poi dal dataflow vado al dataset e poi al report. Che cosa mi dà in più questa cosa qua? Allora facciamo un passo indietro, torniamo nello scenario precedente. Noi qui vediamo che abbiamo ad esempio un SQL Server e un SharePoint, ok? Tornando nello scenario 2, ok, abbiamo lo stesso comportamento, però ipotizziamo che appunto questo qui ad esempio è un SQL Server dove generalmente un IT è gestito da un IT, carica delle tabelle, quindi delle tabelle fisiche, fate finta che sono dei CSV tutti questi oggettini qui oppure degli Excel o quello che volete, ma comunque sono tabelle. che hanno un livello di granulità molto alto e non sono normalizzate, nel senso non sono legati tra loro i dati, quindi bisogna conoscere a fondo le informazioni e sapere come legarle tra loro per ottenere un risultato che poi venga poi inserito all'interno del modello di Power BI Desktop perché sia poi utilizzabile. Ad esempio, facciamo un esempio, con SQL Server che cosa possiamo fare? Possiamo creare delle viste, quindi il vostro IT che ha le conoscenze dei dati grezzi potrebbe creare delle viste custom. Cosa fanno queste viste? Ad esempio io ho preso questa qui e l'ho esplosa e si creano con questo codice qua, no? Se noi andiamo a vedere però cosa questi campi qua vedete che arrivano dalla tabella P, dalla tabella PP, PP, NT e così via, no? E sono tutte informazioni che arrivano da tabelle differenti, no? Perché appunto le tabelle origine sono frammentate su tante piccole tabelline. Infatti se guardiamo da dove arrivano, arrivano dalla tabella Person, dalla tabella degli indirizzi, dalla tabella degli stati di provincia ID perché appunto aggregano più informazioni. Quindi ci vuole una certa conoscenza per creare queste viste. Però se l'IT o anche voi andate a creare queste viste, poi che cosa succede? Che quando andate con la serve, con Power BI Desktop e vi collegate al SQL Server qui, ok? E leggete dalle viste, vi trovate praticamente già l'aggregazione dei campi per come vi possono servire all'interno del modello. Quindi qui non sono state fatte trasformazioni, anche se si possono fare, ma sono state fatte aggregazioni di dati in modo da fornire delle viste semi-pronte per l'utilizzo poi da inserire all'interno del modello. Allora questo scenario ad esempio è possibile farlo con un SQL Server. Quindi se abbiamo un SQL Server, ad esempio il DataFlow non serve. Perché ci viene in aiuto il DataFlow allora in questo scenario? Ipotizziamo che questo SQL Server non ce l'abbiamo, ok? Non ce l'abbiamo. E abbiamo solo il SharePoint o altri strumenti esterni. Non abbiamo un database vero e proprio dove poter andare a fare queste aggregazioni. Allora, se torniamo nello scenario 1 e ipotizziamo che il SQL Server qui non ce l'abbiamo, ok? Che cosa dovremmo fare? Queste aggregazioni, quindi quando abbiamo tante tabelline dobbiamo mettere insieme le informazioni, ok? E connettere appunto tutte le tabelline. Dovremmo farle all'interno del dataset. Quindi in Power Query con Power BI Desktop dovremmo andare a mettere insieme, a fare le query, i left join, right join, tutto quello che c'è da fare per aggregare l'informazione in una tabella finale che è quella che poi a noi è utile. Una o più tabelle a seconda di quello che ci serve. Quindi questo è lo scenario originale. Quindi ci collegheremo qua e creeremo appunto l'informazione all'interno del dataset. Però poi ipotizziamo che, ad esempio, questo dataset, ok, crea, andiamo a trasformare all'interno di Power Query queste informazioni. E poi dobbiamo creare un altro dataset per un altro report, dove magari abbiamo 10 tabellini all'interno di nostro Power Query, di questo dataset, dove 3 di queste le dobbiamo replicare anche su un altro modello di un altro report, perché ci serve replicare la logica di aggregazione di quelle informazioni. Ora, diventa veramente difficile gestire questa cosa con Power BI Desktop, perché andiamo a mettere logiche qui, ma poi andiamo a mettere logiche sul secondo dataset che sono uguali a questo qui. Quindi se poi una logica cambia nel primo dataset, io devo modificarla qui, ma devo modificarla anche nel secondo dataset. E così via se poi mi replico le informazioni su tanti dataset. Cosa che evitiamo col SQL Server. Quindi con il SQL Server, che cosa succede? Se io mi faccio le viste qua, ok, io posso utilizzare la stessa vista in questo dataset e anche nel dataset successivo, nel dataset 2. Ok, e se faccio una modifica alla vista che sta all'interno del SQL Server, sia il dataset 1 che il dataset 2 recibiranno la modifica, quindi vedranno la nuova informazione modificata che arriva dentro il dataset, senza andare a modificarlo su tutti i modelli. Ecco, però c'è sempre il SQL Server di mezzo che ci aiuta ad affrontare questa problematica. Nel scenario 2 abbiamo detto eliminiamo il SQL Server, proprio lo togliamo, via, non ce l'abbiamo. Allora come facciamo a fare delle viste? Ecco che ci viene in aiuto il Dataflow. Il Dataflow si crea all'interno di Power BI Service. E con Power BI Service, ok, noi possiamo andare a creare questo Dataflow, che lo vediamo nella prossima lezione come si fa, e ci possiamo connettere alle alimentazioni che possono essere un SharePoint, un SQL Server, un Excel, un Access, qualsiasi cosa. Abbiamo gli stessi connettori che abbiamo con la Power BI Desktop, quindi possiamo connetterci a tante origini esterne. Questa è una grande cosa perché se noi poi dovremo andare a fare una modifica a una di queste tabelle che abbiamo creato all'interno del Dataflow, ok, quando la modificheremo, tutti i nostri dataset recepiranno l'informazione, proprio come avevamo fatto nella vista di SQL Server. Quindi se poi andiamo a vedere anche nella prossima lezione, ne lo vediamo nel dettaglio, il simbolino che lui crea poi all'interno del Dataflow è il simbolino di un database, perché possiamo praticamente andare ad utilizzarlo come se fosse un database, un motore di trasformazione, o meglio di importazione di dati perché lui prende le informazioni dalle origini esterne e li importa all'interno della service. E lì mi fa praticamente una trasformazione, un'aggregazione dei dati che poi rende fruibile a tutti i nostri modelli di Power BI Service. Così i nostri utenti non li faremo più accedere alle fonti esterne, ma li faremo accedere direttamente al servizio di Power BI Service all'interno dei Dataflow, dove ci saranno appunto tutte le informazioni aggregate e emesse praticamente pronte per l'utilizzo e la creazione dei nostri dataset. Questo è l'utilità praticamente del Dataflow, quindi se abbiamo un SQL Server conviene andare a sviluppare lì le viste, è sicuramente il posto migliore dove andare a fare questo tipo di attività. Ma se non ce l'abbiamo, non abbiamo un database dove creare questa prima aggregazione di dati, può essere interessante valutare la possibilità di creare un Dataflow. Piuttosto che dite, no non voglio fare il Dataflow perché mi allunga la catena di aggiornamento, perché cosa succede? Che poi io quando devo andare ad aggiornare il mio report, in questo caso che ho il Dataflow, devo aggiornare prima il Dataflow, poi potrò aggiornare il dataset e solo poi il report sarà effettivamente aggiornato. Nel scenario 1 invece, quando noi abbiamo refreshato il dataset, il report è a posto, quindi dobbiamo occuparsi poi di due aggiornamenti. E questo magari è uno svantaggio, quindi va valutato bene che cosa dovete fare. Ma vediamo ancora uno scenario. Praticamente qui possiamo vedere altri due piccoli scenari. Allora andiamo a capire che cosa sono queste cose qua e perché il Dataflow si torna ancora utile anche in questo scenario. Qui abbiamo a sinistra, abbiamo Synapse, quindi non abbiamo più SharePoint, non abbiamo più SQL, abbiamo Synapse. Che cos'è Synapse? È praticamente una specie di SQL Server un po' più evoluto. Praticamente è il Data Warehouse di punta della Max. È un servizio in cloud, quindi quando prendete un Synapse dovete prendere il servizio in cloud, non lo potete comprare e installare su una vostra macchina locale. Qui però nasce un problema di fondo. Allora, vediamo che anche qua ho Synapse. Guardiamo prima quello sotto. Nello scenario tradizionale che cosa facciamo? Noi con Power BI Desktop che cosa facciamo? Ci colleghiamo al SQL, a SharePoint, a quello che è, in questo caso andiamo su Synapse. Creiamo il nostro modello e poi lo pubblichiamo sulla service. Cosa succede? Quando lo pubblichiamo sulla service che noi abbiamo un servizio, ok, che è Synapse, che è in cloud di Microsoft. Poi abbiamo la Power BI Service che è sempre in cloud di Microsoft, quindi qui non serve il gateway in mezzo, ok? Come anche negli altri scenari, perché abbiamo visto SharePoint, qui forse su SQL serve, se è in cloud, non serve. Se invece non è in cloud, serve comunque il gateway poi di comunicazione per aggiornare il dataset. Però diciamo che lo scenario è questo. Il problema qual è? Che Power BI Desktop, per collegarsi a Synapse rispetto agli altri scenari, ha bisogno che qualcuno all'interno del portale di Azure vada ad autorizzare l'IP della macchina che sta cercando di collegarsi al database. Cosa significa questa cosa qua? Io qui sono con il mio computer. Il mio computer è in rete e quindi il mio computer ha un nome che è un IP. Ad esempio, se andiamo su cmd e scriviamo ipconfig, qui vedo l'indirizzo di rete, il mio indirizzo di rete, che è questo qua, 192.168.1.4. Poi, a seconda che ci colleghiamo da un indirizzo pubblico piuttosto che interno alla nostra rete, bisogna poi prendere l'indirizzo comunque corretto da far abilitare a Synapse. Però diciamo che per entrare io devo dire Synapse, ok guarda tu puoi accettare in ingresso queste macchine qua e gli devo dare l'elenco degli IP che possono accedere a Synapse. Allora voi potreste dirmi, benissimo abilitiamo tutti gli IP, il problema è che se abilitiamo tutti gli IP poi Synapse va su internet e magari diventa attaccabile da un hacker. Allora, tendenzialmente quando l'IT mette su e gestisce questa risorsa, va a segmentare il numero di indirizzi che possono andare ad accedere. Quindi tendenzialmente si vanno ad approvare solo gli IP che devono effettivamente accedere al database. Però che cosa succede? Io al mio IP ci fisso, spengo, facendo il router, il mio IP cambia. Quindi quando il mio IP cambia, che cosa succede? Che non è più nell'elenco che è stato dato a Synapse. E quindi dovrei rientrare nel portale e abilitare un'altra volta quell'IP. Allora, se a seconda delle grant che avete potreste essere contributor di questo resource group dove è presente Synapse, voi potreste entrare nel portale e abilitare manualmente il vostro IP. Così per quella giornata o finché non spegnete e accendete il router, voi potrete collegarvi. Poi quando avete portato il progetto sulla service, quindi avete pubblicato il vostro report nella service, essendo servizio su servizio non c'è più problema di IP perché sia Power BI Service che Synapse sono su servizi Microsoft. Quindi non c'è più problema. È solo quando noi dobbiamo sviluppare che si presenta il problema. Quindi in questo caso che cosa si consiglia? Ecco il disegnetto che succede sotto. Praticamente qui c'è il whitelist. Cosa faccio? Creo una virtual machine, quindi vado a creare una macchina virtuale che è sempre in cloud, sul servizio Microsoft di solito se siete con loro. E vado a debilitare, essendo che la macchina virtuale ha un IP statico, se io lo spengo e l'accendo, ha sempre quell'indirizzo IP. Quindi una volta che ho creato una VM, abiliterò l'IP di questa virtual machine su Synapse. Ripeto, se la spengo e l'accendo è sempre quella, quindi una volta abilitato l'ho fatto per sempre. All'interno della virtual machine faccio accedere le mie utenze che devono sviluppare con Power BI Desktop. Eccole qua. Allora da qui, ok, essendo che sono dentro alla virtual machine, posso sempre collegarmi a Synapse. E poi da qui posso andare a pubblicare sulle service e poi qui è tutto un dritto e non c'è nessun tipo di problema. Qual è la cosa sconveniente di questa cosa? Che se io ho magari 20 persone che devono accedere alla virtual machine, tutte le 20 persone sfruttano le risorse della macchina. E quindi magari potrei esaurirle e potrei non riuscire a lavorare bene. In più aggiungo un costo, perché la virtual machine comunque costa RAM, processore, disco. E quindi questo potrebbe essere uno scenario non ottimale, perché poi non andremo nemmeno a sfruttare la potenza dei nostri singoli PC, così perché lavoriamo direttamente in virtual machine. Ecco che il Dataflow ci torna ancora d'aiuto. È uno scenario che va valutato a seconda di come voi volete lavorare, ma comunque è uno scenario sicuramente interessante da valutare. Cosa significa? Che quando io vado a creare il Dataflow, come abbiamo detto in precedenza, lo vado a creare da Power BI Service. Non è un oggetto che creo con Power BI Desktop. Lo creo con Power BI Service, quindi sono all'interno del servizio Microsoft. Essendo all'interno del servizio Microsoft, collegarmi a Synapse non è più un problema. Non devo più preoccuparmi di abilitare l'IP per andare a leggere i dati su Synapse. Quindi io qui posso andare a creare il mio Dataflow, che contiene magari tutte le tabelle che sono all'interno di Synapse, così come sono, perché potrei replicare anche le viste che hanno già la forma aggregata delle varie tabelle che mettono insieme i dati, eccetera, come dicevamo in precedenza. Piuttosto che posso effettivamente andare a fare delle trasformazioni direttamente qua, in modo da dare un premasticato, poi da importare all'interno di Power BI Desktop per creare i miei Dataset. Qual è il vantaggio appunto? Che questo vado diretto, non mi devo preoccupare degli accessi. E Power BI Desktop può accedere direttamente a Power BI Service, perché il Dataflow poi è posto all'interno di Power BI Service. Quindi con Power BI Desktop poi io mi collegherò al servizio appunto di Power BI Service che non richiede l'autorizzazione di accesso con l'IP. È libero, perché qui c'è una sicurezza che è sicuramente maggiore, perché è un database, un data warehouse più importante, e quindi è richiesta una gestione della sicurezza differente. Quindi qui potrei lavorare con il mio PC, perché non serve mettere l'IP della mia macchina in whitelist. Ecco questo è un altro vantaggio. Poi io qui potrei andare a pubblicare il Dataset sulla Service, e poi qui lo schema è sempre dritto. Quindi il Dataflow dovrà aggiornarsi per primo, che va a recuperare i dati dalla Synapse, e il Dataset si aggiorna subito dopo, che va a recuperare i dati dal Dataflow, che comunque è Service su Service. Il report poi è automatico. Questi sono i vari scenari, quindi riepilogando molto velocemente, lo scenario 1 senza il Dataflow, dobbiamo mettere tutte le nostre trasformazioni all'interno dei Power Query, ma se poi le dobbiamo replicare su più Dataset, dobbiamo replicare le stesse logiche, quindi diventa difficile poi mantenere le cose. Se invece introduciamo un Dataflow in mezzo, eccolo qua, noi possiamo mettere tutte le logiche qua, e se la tabella poi la andiamo a modificare, sarà utile per il Dataset 1, ma sarà utile anche per il Dataset 2, e entrambi recepiranno le informazioni. Il terzo scenario era appunto l'utilizzo di Synapse, che se andiamo diretti con la nostra Power BI Desktop, dobbiamo andare ad autorizzare l'IP, quindi dobbiamo mettere una virtual machine per poter autorizzare l'IP statico, e non avere sempre il problema di andare ad autorizzarlo. Invece col Dataflow possiamo andare dritti senza preoccuparci di questa cosa qua, e poi collegarsi appunto con la Power BI Desktop al Dataflow per creare tutto quello che dobbiamo fare. Per finire, giusto per finire, voi potreste anche fare questo scenario qua, per ipotizzare magari uno schema dove avete dei gruppi che fanno un primo sviluppo e dopo c'è un altro gruppo che autorizza quello che viene sviluppato. Allora magari quello che autorizza poi crea questo flusso qua, quindi crea il collegamento direttamente a Synapse, e toglie praticamente il Dataflow di mezzo, che magari è una fotografia ferma. Perché magari il Dataflow fa semplicemente una replica di quello che c'è su Synapse. Quindi magari il team di sviluppo sviluppa dal Dataflow, così non dovete preoccuparvi di creare una VM per il team di sviluppo. E il team approvatore che cosa fa? Non fa altro che entrare in Power Query e cambia la sorgente dal Dataflow a Synapse, così si passerà da questo modello che è posto qui, ok, al modello che è posto sotto, in modo che poi quando si è sulla parte di produzione, mi devo solo preoccupare di aggiornare il dataset per avere il report aggiornato. Invece per la parte di sviluppo, ok, posso aggiornare una tantum, il Dataflow quando è necessario manualmente. E questo è un altro scenario. Bisogna sempre ragionare bene su cosa vogliamo fare, dove vogliamo arrivare, cosa ci serve prima di andare effettivamente a sviluppare il report. Questo è un motivo per cui ho deciso di parlarvi di tutte queste cose prima di andare a capire come funziona effettivamente lo strumento Power BI Dextro, perché iniziare a sviluppare per dopo, rifare tutto, non è mai molto bello, insomma. Va bene, con questa lunga lezione ho finito. Come sempre, se il video è stato di vostro gradimento, lasciate un bel like, iscrivetevi se non siete iscritti al canale, se invece vorrete sostenermi in modo che mi senta sempre più incentivato a portare il video, magari pensate ad abbonarvi con il bottoncino abbonati che c'è qua sotto, così appunto riuscirete a sostenermi e mi darete la forza di poter portare avanti questo canale. Se invece la risorsa è stata così tanto di vostro gradimento, magari potete lasciare anche un grazie con una donazione, una tantum premendo il bottone grazie che è qua sotto. Vi ringrazio molto per avermi seguito, ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!